Ed ora, in chiusura dell'ottava edizione della Festa Musica di Portoguaro, avremo quattro pianisti della Scuola di Musica della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portoguaro. Inizia Ilaria Marcon, che ci suonerà l'adagio sostenuto dalla sonata Il Chiaro di Luna di Beethoven, e a seguire il notturno Opera 9 numero 1 di Chopin. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.